Ciao a tutti ragazzi, breve introduzione prima di cominciare il video, che sarà una magia molto breve, però di grande impatto, quindi spero che vi piacerà. Faccio questa piccola introduzione per dirvi due o tre piccole cose. Allora, prima di tutto voglio salutare Stefano Alemano. Ciao Stefano, ti saluto molto volentieri, hai visto che ti ho salutato perché avevi gente prima di te, quindi ciao Stefano, ti saluto oggi. Ieri pomeriggio sono venuti i miei amici a casa mia, quindi siamo riusciti finalmente a filmare lo speciale, era ora. Non vi dico niente, è una sorpresa. Questa settimana penso di riuscire a editarlo e quindi lo caricherò la prossima settimana. Quindi tenetevi pronti che è qualcosa di molto molto divertente. Non vi voglio dire cos'è perché lo vedrete. Magari riceverete qualche aggiornamento su Facebook, quindi sulla mia pagina, quindi andate a mettere un bel mi piace, vi lascio il link in descrizione. Che vi metterò qualche aggiornamento su come procede l'editing del video o comunque così magari riuscirete a capire già di cosa si tratta. Quindi penso che lo caricherò settimana prossima, tenetevi pronti. Se non siete ancora iscritti al canale iscrivetevi e adesso vi lascio il video, vediamo di arrivare a 40 mi piace. Ciao ragazzi. Ricordatevi questa carta. Vado a lasciarla al centro del mazzo. Vuole prendere un chewing gum con la scritta Jewish Fruit. Guardate, vi basta stringerlo così tra le mani. Più sopra il ciclo c'è scritto Six of Art. Esattamente la vostra carta. Ma guardate la cosa sensazionale. Che se io tolgo la carta attorno, all'interno c'è esattamente una carta piegata. E proprio questa carta piegata è il vostro sei di cuore. Ciao. 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 Grazie a tutti.